Mai più e-mail di lavoro usciti dall'ufficio. Dopo svariate discussioni dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge sul diritto alla disconnessione che impone alle aziende con più di 50 dipendenti di fissare i modi e i tempi per essere offline. Una legislazione necessaria secondo diversi esperti perché sempre più spesso nelle imprese i tempi di riposo e recupero non vengono rispettati. I dirigenti non osavano ammettere di essere stanchi, di essere sempre irraggiungibili, spiega un'esperta di comunicazione. Perché? Perché nella propria carriera professionale non essere rintracciati 24 ore su 24 è come darsi la zappa sul piede. Ora però non ricevere posta elettronica durante il tempo libero, nel weekend o nelle ferie è diventato un diritto sia per manager che per semplici dipendenti francesi. Molti colleghi erano spesso sotto pressione, racconto un responsabile finanziario delle poste. Il fatto che ora è legge, possono anche dire no, non voglio più leggere le mail, non voglio rispondere, ho bisogno di staccare, sapendo che ognuno ci guadagna da questo. I colleghi che dicono no possono recuperare e diventare anche più produttivi. La legge si inserisce nella più ampia riforma del lavoro adottata in Francia la scorsa estate ed entrate in vigore nel nuovo anno. Grazie a tutti.